Benvenuti ad un'altra video recensione di Ciaccazione. Oggi vi parlerò di una miniserie targata Disney Plus che ha conquistato il cuore di tutti. Si tratta appunto di Shogun. In questa video recensione saranno presenti degli spoiler, quindi mi raccomando, non continuate la visione di questo video se non avete visto l'intera miniserie. Quindi, sigla! E partiamo innanzitutto con la trama. Allora, Shogun innanzitutto è ispirata a un libro di James Clavel che si ispira appunto ad una storia realmente accaduta nel Giappone del 1600, quindi si tratta di un Giappone feudale, che ci mostra tutti i suoi usi e costumi. Usi e costumi che verranno non molto ben accetti dal cosiddettone Jin, che sarà il barbaro, che sbarcherà sulle sponde del Giappone grazie al naufragio di una nave mercantile che è chiamata Erasmus, ed è una nave mercantile olandese. La jean è Blackthorn ed è inglese. Blackthorn, diciamo che il suo, ha intrapreso questo viaggio proprio perché voleva mappare la rotta della Via della Seta, rotta che era già stata scoperta dai portoghesi che avevano sfruttato a proprio vantaggio sia per quanto riguarda i scambi commerciali con il Giappone sia per espandere il cattolicesimo. E ci riesce. Cosa succede? Succede che questa nave viene appunto notata da uno dei samurai che serve appunto il Toranaga e da qui iniziano i primi intrighi di corte. Blackthorn non parla chiaramente il giapponese e avrà bisogno di un interprete. L'interprete che è appunto Mariko, interpretata dalla meravigliosa Anna Sawai, che secondo me sarà l'astrice dell'anno. e cosa succede? Succede che ci sarà un amore a prima vista tra i due. A tal proposito bisogna fare un attimino di chiarezza per quanto riguarda le lingue parlate nella serie. Quella, allora, innanzitutto il regista e lo sceneggiatore hanno preteso che la lingua parlata fosse appunto il giapponese e che tutti gli attori fossero giapponesi. Ed è quello che vedremo nella serie. Quindi noi in realtà chiaramente dovremmo leggere i sottotitoli, sottotitoli che a volte rendono un po' fastidiosa la visione della serie stessa perché ci si perde qualche passaggio e si rischia a volte anche di perdere un po' il filo del discorso perché non ci si può distrarre neanche un attimo. Mentre invece Lanjin e la stessa Mariko non parleranno l'inglese da noi tradotto in italiano ma parleranno il portoghese quindi Lanjin parla il portoghese che verrà poi capito e tradotto da Mariko in giapponese. Quindi questo, diciamo, è la prima pecca della serie anche se a mio avviso è stato giusto così. Questo amore però non può essere vissuto dai due protagonisti in quanto la stessa Mariko è sposata con uno dei samurai, ovvero Buntaro, che è a servizio di Toranaga. Cosa succede? Succede che ad un certo punto chiaramente il loro amore si consumerà però avrà vita breve. Questo perché Blackthorne penserà in realtà di sfruttare a suo vantaggio tutto ciò che accade nel periodo in cui lui è appunto in Giappone ma in realtà non sa che è lui stesso una pedina dello stesso Toranaga. Toranaga è bandito dal consiglio dei samurai che dovranno decidere un po' la sorte dell'impero giapponese in quanto l'imperatore è troppo giovane quindi non può prendere le redine dell'impero e questo comporterà un po' di intrighi di corte perché Ishido, che tenterà anche di sposare la vedova dell'imperatore vuole appunto detenere il potere e uccidere lo stesso Toranaga che in realtà era un uomo samurai molto fedele dell'imperatore tant'è che lo stesso imperatore gli dirà di proteggere a tutti i costi il figlio e quindi iniziano a nascere un po' i primi vissili interni. Cosa succede? Succede che Ishido tenterà di imprigionare lo stesso Toranaga all'interno di Osaka quindi della sua corte ma non sa che Toranaga in realtà è molto più furbo di lui e riesce a fuggire fugge e da qui inizia a muovere le sue prime pedine e lo fa grazie anche all'aiuto di Maricuo e anche del suo fedele servitore che per mettere in atto il suo piano commette il seppuku che consiste praticamente nel togliersi la vita in nome della lealtà al proprio samurai dove chiaramente verrà poi aiutato anche da un secondo da una seconda persona che è scelta da lui stesso che gli taglierà la testa con la katana per evitare gli inutili sofferenze. Quindi da qui iniziano le prime strategie di Toranaga Toranaga era pronto a scendere in battaglia con il suo esercito ma purtroppo a seguito di un terremoto perde praticamente quasi l'intero esercito e quindi capisce che in realtà non può combattere una battaglia sul campo di guerra ma deve per forza farlo attraverso la formizia, attraverso la mente ed è proprio questo che ci insegna Shogun che in realtà le parole e la furbizia possono essere molto più letali rispetto alle spade ed è quello che vedremo. Toranaga decide quindi di mettere in atto il cielo Kremisi che inizialmente io pensavo fosse una battaglia pensavo che Toranaga andasse ad Osaka riuscisse a sfondare le porte di questa città e quindi poi attraverso un colpo di stato avrebbe preso il potere ma non è questo che accade. Quello che vedremo infatti Toranaga conosce benissimo il carattere dei suoi sedicenti servitori e li sfrutta a suo vantaggio. La prima cosa che fa è quella di spingere uno dei suoi servitori che è un po' come una bandiera al vento una volta dalla parte di Ishido una volta dalla sua parte e lo spinge insieme a Nanjin verso Osaka portandosi con loro Mariko che sa, conosce perfettamente l'intero piano di Toranaga e si avvia con loro. Ci sono da fare diciamo delle precisazioni riguardo un po' il ruolo della donna è ricoperto nel Giappone. È un ruolo relegato alla moglie fedelissima che deve difendere il marito a posto della vita e anche un po' casalinga deve prendersi cura della casa deve insomma servire il marito tant'è che ad un certo punto Toranaga dirà a Buntaro che ha appena picchiato la moglie gli dirà tu di tua moglie puoi fare quello che vuoi anche perché in questo caso Buntaro deciderà del destino della moglie o almeno lo ha deciso fino ad un certo punto perché impedirà a lei stessa di commettere seppuku perché Mariko è tormentata da ciò che è successo alla sua famiglia e quindi in realtà il suo desiderio è sempre stato quello di raggiungerli ma non può farlo perché Buntaro appunto non glielo concede e questo Mariko non glielo potrà mai perdonare però nel non episodio quello che noi vedremo è un po' un riscatto della donna della stessa Mariko che non è più una semplice traduttrice ma diventa artefice del suo destino e di quello di Toranaga stesso qui lei verrà salvata dal seppuku in calcio d'angolo da una decisione di Iscido però morirà comunque e puntata che ho odiato che ho apprezzato da un lato perché è pura poesia è stata scritta davvero bene le poesie non solo vengono recitate dagli attori stessi sono anche molto belle ma l'intera sceneggiatura appare appunto una versione poetica appunto della puntata però finì il termine appunto con la morte di Mariko che fa parte sempre del piano di Toranaga questo perché perché Mariko è stata l'ancora di salvezza di Ociba che sarebbe la vedova dell'imperatore sono cresciute insieme ed è stata lei anche diciamo la sua felicità la stessa Ociba lo dirà che Mariko ha rappresentato la sua felicità in momenti oscuri della sua giovinezza e quindi non sopporterà la morte di Mariko avvenuta ad opera di Iscido perché dapprima la lascia libera di tornare da Toranaga ma in realtà poi durante la notte grazie all'entrata dei banditi di Osaka che lascerà entrare il sesso lui Mariko muore quindi Ociba che teste la tela come una vedova nera capisce che non può più stare da parte di Iscido e quindi si allea con Toranaga quindi cosa succede succede che così il cielo cremisi è compiuto perché Toranaga in realtà riesce a vincere la guerra ma non sul campo di battaglia perché lo stesso Iscido che poi muoverà il suo esercito contro Toranaga in realtà non può più esporre il vessillo dell'imperatore e quindi non sarà più appoggiato dallo stesso non è più non è più legittimato nella sua battaglia e quindi dovrà per forza arrendersi con questo Toranaga otterrà quello che ha sempre voluto dall'inizio ovvero diventare Shogun lo Shogun non è altro che il samurai più ricco e potente che può avere un imperatore e ci riesce questo però noi non lo vedremo in realtà ma ci verrà spiegato durante il seppulco di un traditore di Toranaga e lui lo spiegherà all'uomo che sta appunto per togliersi la vita lo spiegherà ma noi non lo vedremo quindi ed è proprio per questo che io non do un 10 a questa miniserie perché mi aspettavo una una battaglia finale che però non vedremo mai però i lettori del libro dicono appunto che è proprio così che termina il libro quindi è giusto che la miniserie termini così se proprio dobbiamo diciamo analizzare la recitazione dei protagonisti dobbiamo fare io personalmente mi ritroverei a dover fare un appunto sulla recitazione dell'attore di Black Thorn che sarebbe Cosmo Jarvis che a mio avviso soprattutto nel nono episodio manca un po' di intensità e di sentimento in quanto appunto verrà a mancare la sua amata io personalmente non ho visto molto la sua disperazione anzi addirittura nel decimo episodio sembra quasi che gli sia passato tutto questo questo dolore che avrebbe dovuto avere e oppure anche quando nel nono episodio mentre Varicò combatte contro contro alcuni insomma contro l'esercito di Iscido contro alcuni non proprio contro l'intero esercito non lui si limita a guardare dall'alto ma non fa neanche diciamo una smorche in viso almeno è quello che ho da ridire io sull'interpretazione dell'attore Anna Sawai invece è straordinaria questo lo ripeto spero che vinca qualche qualche premio perché la sua il suo la sua il suo essere freddo la sua freddezza traspare ma traspare anche il suo il dolore che ha lei internamente davvero un'ottima interpretazione poi abbiamo Toranaga interpretato dal nostro Sanada che sinceramente per me quest'attore è nato proprio per interpretare un samurai è davvero davvero un ottimo interprete ma adesso spieghiamo il finale perché non è stato capito da molti in quanto all'inizio noi vediamo Blackthorn che è adagiato su di un letto è anziano e stringe tra le mani la collana che indossava Maricot però noi proprio nel decimo episodio abbiamo visto che in realtà lui getta in mare la collana di Maricot quindi non è possibile che ce l'abbia ancora inoltre entrano nella stanza i suoi due nipoti che parlano la sua lingua il che ci fa pensare inizialmente che lui si è ritornato in patria ma in realtà non è così infatti il decimo episodio si intitola un sogno nel sogno questo sta ad indicare che in realtà è Blackthorn che sogna di essere rientrato in patria ma non accadrà mai perché in realtà Blackthorn è una pedina fondamentale nel piano di Toranaga che servirà a distrarre i portoghesi dalla strategia di espansione feudale che ha appunto in mente Toranaga diciamo che secondo me ad un certo punto Lanjin si accorge di essere una pedina di Toranaga quando nell'ultimo episodio vediamo proprio verso la fine quando lui tira su la sua nave ormai distrutta guarda Toranaga si scambia uno sguardo e sembra quasi che Lanjin dubiti di ciò che ha promesso il samurai ed è proprio quello che alla fine lui non farà cioè non farà mai rientrare Lanjin nella propria patria quindi Shogun diciamo che ci fa ci fa intendere due cose uno che non si può essere o almeno all'epoca in quel Giappone non si può essere leali fino ad un certo punto ma si deve essere leali fino alla morte lo dirà lo stesso a Mariko a Blackthorn in quanto Blackthorn ad un certo punto inizierà a dirgli che non deve per forza essere così leali a Toranaga ma gli proporà anche di scappare insieme ma lei non decide di non farlo perché appunto è leale verso il suo samurai e un'altra cosa ci insegna ci insegna che in questo Giappone in questo Giappone del 1600 la morte non è vista come una una condanna ma è vista come una sorta di liberazione perché dico questo perché molto spesso sempre in nome della realtà alcuni servitori del proprio samurai se commettevano qualche errore non solo si toglievano la vita loro stessi ma permettevano l'uccisione anche dei propri figli molto spesso erano appunto degli infanti come succede in una puntata di questa miseria puntata che ho davvero odiato e le donne spesso volevano appunto raggiungere i propri figli nel dal di là ma questo non era loro concesso perché il destino il loro destino era sempre deciso da da terze persone io personalmente ho amato alla follia questa questa serie che vi consiglio assolutamente e anzi se avete se l'avete vista tutta spero che vi sia piaciuta almeno quanto è piaciuta a me e spero che vinca numerosi premi e anzi io credo proprio che li vincerà perché è tutto meravigliosamente riprodotto sia dai dai costumi anche i costumi dei samurai sono sono stupendi ma così come diciamo il Giappone il Giappone stesso i panorami del Giappone e anche l'atmosfera è quella che ci saremmo aspettati da questa da questa miniserie con questo io vi lascio e vi do appuntamento alla prossima video recensione ciao